Contro Harta, la Padula salta al portiere e non riesce a concretizzare per il salvataggio di Moretti, quasi incredibile Nel momento in cui è uscito aveva tutto lo specchio In posizione regolare, con freddezza, controlla, manda a vuoto Harta e non riesce a metterla dentro Clamoroso, troppo sicuro, troppo sicuro